ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come emma marrone come belen ha condiviso nel giro di pochi giorni la stessa sorte durante le iene come la showgirl argentina la cantante salentina è caduta durante l'esibizione del suo nuovo singolo sul palco della trasmissione in onda su italia 1 in occasione dell'ultima puntata stagionale del popolare programma satirico il pubblico ha assistito ad un evento le due ex rivali in amore hanno condiviso sui social alcuni scatti insieme dietro le quinte delle iene emma marrone che ha sempre dichiarato di non nutrire alcun risentimento nei confronti della rodriguez con la quale all'epoca stefano de martino la tradì si è mostrata sorridente stretta in un abbraccio con l'argentina scaldando i motori in attesa della puntata in cui è stata ospite il web galvanizzato dagli scatti delle due è stato così preso all'amo per vedere la puntata della trasmissione satirica ideata da davide parenti che è stata connotata dalla presenza di emma che non solo si è esibita ma è stata anche protagonista di una caduta memorabile emma marrone cade due volte sul palco delle iene belen l'aiuta la cantante ha avuto modo di presentare il suo singolo mezzo mondo dopo essere stata presentata dal trio di conduttori composto da max angioni eleazzaro rossi natan kiboba e dalla rodriguez ma qualcosa è andato storto emma marrone a causa di tacchi troppo alti è finita a terra due volte durante la sua esibizione trovando l'aiuto proprio di belen che l'ha aiutata a rialzarsi dopo che la stessa sorte era a lei toccata nella precedente puntata dopo la seconda caduta la showgirl argentina non si è trattenuta dal ridere ma poi le due si sono abbracciate ed una volta terminata l'esibizione della cantante l'argentina ha commentato ironicamente emma ci ha regalato due stupende cadute visto che sono caduta io la puntata scorsa mi sembra giusto l'hai fatto per farmi sentire meglio pronta la replica della marrone noi però sappiamo cadere molto bene e ci sappiamo anche rialzare molto bene in seguito la cantante ha postato su twitter un post dello stesso tono l'importante è cadere con classe per poi rialzarsi grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace e commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video ciao 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 I am waiting for the dumb cause I can't wait to piss the sun cause I believe in the